Buonasera amici, conoscenti, parenti, perché talvolta qui su Facebook stanno anche i parenti. Io vi do la buonanotte e stasera lo faccio in modo piuttosto ilare, non so, qualcuno me lo dirà, perché, come qualcuno di voi avrà notato, sottoporrò alla lettura un testo che mi fa sorridere, cioè già di per sé il titolo evoca il riso. Andiamo a scoprire quindi il testo della canzone che leggerò, trattasi dei bambini fanno o di Giuseppe Povia o semplicemente Povia. La canzone presentata saremo nel 2005, che ebbe poi un successo straordinario, i cui proventi furono devoluti, poi lasciamo stare qua le notizie di Wikipedia a riguardo, soldi che furono devoluti, cioè i proventi di questa canzone. Qualcuno di voi me lo dirà, perché Wikipedia lo dice, poi apre una specie di singolare questione a riguardo. Ma noi sorvoliamo perché ci occupiamo di testi, e in questo caso del testo quando i bambini fanno o di Povia. Passerei direttamente alla lettura, intanto saluto Filippo, Santo Iemma, Lory Anahata Castellana, che ha questo secondo nome piuttosto strano, spero di averlo pronunciato bene. Intanto saluto appunto i fedeli frequentatori del caffè letterario notturno, e ricordo loro che se dovessero perdersi qualcuna di queste puntate, tranquilli, tranquilli, perché potrete ritrovarle niente poco di meno che su YouTube. Bene, saluto anche il grande Marco Baccarini, che si è appena connesso, e anche a lui dico che stasera ho scelto di interpretare un testo leggero per alcuni, profondo per altri, sciocco per altri, ma la musica del resto, come dire, suscita, ho sentito un tonfo in casa, emozioni differenti. Spero che non sia qualcuno che non voglia che legge i bambini fanno o di Povia, ho sentito come un batter di scopa, forse l'avete sentito anche voi. Ebbene sì, passo alla lettura. Adesso che il numero dei seguaci si è innalzato fino ai 26, caspita. Quando i bambini fanno o, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno o, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino, smac, a un agnellino. Tutti i bambini fanno o, dammi la mano. Perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno. Nessuno può diventare un uomo. Per una bambola o un robot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro è, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove, i bambini fanno o, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno o, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però, che mi vergogno un po', perché non so più fare o, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli, né sulla pancia, né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti. Come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh, mamma mia, bata! Ma ogni cosa è chiara e trasparente. Che quando un grande piange, i bambini fanno Oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno o, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo, vedi, però, però, che mi vergogno un po'. Perché non so più fare o, non so più andare sull'altalena. Un fil di lana, non so più fare una collana. Na, 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 na. Finché i cretini fanno E, finché i cretini fanno A, finché i cretini fanno BUM. Tutti restano uguali. Ma se i bambini fanno O, basta la vocale. Io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno NO. Io chiedo asilo. Io chiedo asilo. Come i leoni. Io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto. Uguale è il colore. E vive i pazzi, che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto di strane parole. Che io non ho letto. Voglio tornare a fare O. Voglio tornare a fare O. Perché i bambini non hanno peli, né sulla pancia, né sulla lingua. Bene, anche stasera abbiamo aggiunto un altro tassello all'angolo del caffè letterario notturno. Spero, come dice Matteo Pizzi, che dice testo veramente, veramente tosto, che vi sia piaciuto il testo in se stesso, oltre alla mia lettura. Non nascondo che mi sono lasciata trascinare dal mio animo bambino nell'interpretazione. Marco Baccarini, grazie, sempre gentile, dice incredibile quanto tu l'abbia resa tua. Del resto, insomma, la leggo così come mi viene, giuro che non le preparo prima, quindi incontro il testo all'improvviso e quello che mi suscita è quello che voi vedete. Roberto Maselli dice, applausi, dovreste leggere delle fiabe ai bimbi, saresti meraviglioso. Ma guarda, magari, magari tra le 1256 cose che ho in testa, riuscirò a fare anche quella. Ad ogni modo, salutando Maurizio Cattafi e Matteo Pizzi e ringraziandoli per la loro presenza qui, io vi do appuntamento a forse domani, forse dopodomani, non lo so. Comunque, dopo il sole, quando diventa buio, sappiate che io potrei collegarmi e leggere un testo. Come al solito, anche stasera ho scelto un testo che mi andava così, senza consultare i vostri suggerimenti, vi invito appunto a richiedere eventualmente la lettura di alcuni testi di canzoni che vi piacerebbe io leggessi. E vi do appuntamento sul web, qui su Facebook, in una delle nottate prossime, per la lettura di un nuovo testo. E poi vi invito, amici bolognesi dei dintorni, il 31 ottobre al Bravo Caffè di Bologna, perché riparte la mia rassegna dedicata ai cantautori. Posso già svelarvi i nomi dei prossimi ospiti, saranno Maria Antonietta, adesso mi sfugge il cognome, mannaggia, è già l'arteriosclerosi che arriva galoppante e veloce, ma intanto che devo dirvi qual è il cognome di Maria Antonietta, forse Zaccheo, vi dico che ci sarà Davide Dei Pagnini e Gianmarco Basta, che a Bologna lo conoscete un po' tutti, e forse si aggiungerà la presenza di un altro cantautore, domani ve lo saprò dire. Comunque intanto vi do l'appuntamento al prossimo Halloween, 31 ottobre al Bravo Caffè, con adesso recuperi il cognome, sì, Maria Antonietta Mazzeo, Gianmarco Basta e Davide Dei Pagnini, e poi ci sarò io, che chiaramente interpreterò. Intanto saluto anche Luigi Benassi, che dice viva le favole. Ragazzi, mi sto sciogliendo con tutti questi complimenti. Allora, Roberto Maselli dice, sei davvero una grande, per la prossima volta mi piacerebbe leggessi Le Rondini. Ah, caspita, un testo meraviglioso, poi io vabbè, amo Lucio, ormai questo lo sanno tutti, per me è la guida, è l'artista, l'artista per eccellenza, quindi sicuramente leggerò qualcosa di Lucio quando sarò ispirata, ma Le Rondini sicuramente sarà un testo che prenderò. Intanto, grazie Sabrina Tutone, che dice mi è piaciuto molto, i bambini sono creature meravigliose, e poi la ringrazio per le parole che seguono. Vi do quindi appuntamento al prossimo caffè letterario notturno. Suggeritemi idee se ne avete, se volete suggerirmele, dopodiché vi auguro davvero una buona notte e a presto, a presto, donne, uomini e anche bambini. Oh!